Tutti amano lo stile italiano, il nostro modo di vivere, di saperci circondare di cose belle. Una cucina Scavolini è italiana nel gusto dei particolari, nella solidità dei materiali, nella fantasia con cui sa adattarsi a qualsiasi ambiente. Questo è lo stile italiano, questo è Scavolini. Cucina Scavolini, la più amata dagli italiani. Questo è lo stile Scavolini, uno stile italiano per una cucina solida, pratica ed elegante. Cucina Scavolini, la più amata dagli italiani.